Oda, tu devi stare a casa a lavorare ma come cazzo ti permetti di avere una vita privata dove esci e poi fa il 1927 sbagliato, sto bastardo ma quando lo vogliamo finire questo vai in giro, magni, bevi dormi, fai cose vita sociale tu sei un pezzo di melma io lo dico subito perché? la settimana scorsa mi hai spolerato il capitolo ma io non mi l'ho fatto apposta io lo dicevo per ridere io ti ho fatto vedere gli scarponcini col tacchetto che cazzo se lo immaginava che era davvero lui nemmeno nei miei sogni più reconditi mi sarei immaginato potesse essere veramente lui è incredibile sei un criminale mi hai spolerato il capitolo vabbè, tra poco tra poco ne parliamo e vabbè facciamo i soliti dieci minuti di di cazzeggio per quelli che ancora non hanno capito che alle nove devono stare qua siete proprio pessimi no è proprio più forte di loro secondo me sono come i tizi dentro nel diorama di di road che fanno tutti ah sì vai io del sole qua il cielo si è spaccato no e poi la prima via 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 spolite tutto cioè allora è meravigliosa quella scena è una delle scene più belle dell'intero capitolo oh che troia non ce la facevi ecco noi la scorsa settimana ci siamo interrogati c'erano complici erano ignari no erano ignari e ignavi probabilmente e invece loro vedevano l'ora di scappare incredibile cioè mi ha fatto troppo ridere perché loro veramente dicevamo ma sono lì da anni sembra che sono lì da tempo non sono mai no allora erano inconsapevoli ormai erano succubi del suo giochetto gli davano pure corte che vera no comunque ci sono un paio di cose di cui voglio discutere con te che poi erano cose di cui abbiamo discusso settimana scorsa ma in maniera completamente inconsapevole quindi certo chiaro fra dieci minuti consapevole zeren consapevole zeren non so se esiste però noi le utilizziamo abbiamo poniato oggi sì in chat chiedono se io sto leggendo dan da dan è bello che io faccio video tipo due tre anni fa no di questa roba poi esplode l'anime e la gente no come se cascano tutti dal pero no e quindi recuperate i video che sono su youtube va bene one piece che capitolo è 1129 29 e vi ricordiamo che questa è l'ultima settimana in cui c'è il capitolo quel capitolo va in pausa due settimane ma almeno non va in pausa sei mesi come l'anime infatti meno 71 capitoli al finale meno 71 capitoli al finale c'è da dire che non so tu se sei d'accordo con me oppure no però questo capitolo 1129 un po' mi ha messo il buon umore come insomma un tempo consigliabile belle storie ho appena consigliato un capolavoro questo è veramente un capolavoro murder falcon siete voi che non li conoscete volete leggere sempre se se puttanate come one punch man e come tutti gli altri tu l'hai mai letto sa mi dare lo conosco ma non fa per me per me io mi sono chiesto tantissimo per me è veramente un bel manga vabbè comunque e poi anche a te piace un sacco Yotsuba giusto si ma quello è leggero a me piace proprio perché è leggero mi rilassa mi rilassa un sacco vabbè torniamo a one piece dai la ragione per cui siamo qui ma tanto questi sono io ho capito e questi sono capito e a cui la community italiana non gli frega non gli frega un cazzo è incredibile io ho visto scusate posso fare un dissing nei confronti della community italiana di one piece voi volete solo vedere la roba del folklore di one piece la roba della macromitologia quando c'è il capitolo che fa stompare tutto il resto non ve ne fotte niente perché non li leggete è quello il problema io ho visto scusate numericamente i numeri che hanno fatto la community anglofona internazionale questi capitoli sono più alti dei capitoli dove succede il patatrac posso dire non capito un cazzo quando leggete lo posso dire con tutto il bene che vi io ho fatto i primi due capitoli della nuova saga che poi erano i due recapponi del mondo con volume molto alto appena cominciata sta roba non è piaciuto a nessuno e io li trovo invece molto interessanti allora noi siamo di parte io faccio anche questo discorso quindi magari noi possiamo anche non fare testo va bene siamo i fanboy schifusi parliamo sempre bene di one piece non è vero però l'andante è questo no noi siamo quelli che per forza abbiamo parlato bene di one piece se no non è il caso non è vero noi non parliamo bene io reputo il nostro charlar di one piece tutto sommato quasi oggettivo dico tutto sommato perché ovviamente a noi piace parlarne e quindi ci mettiamo anche il core però c'è molto cervello perché se dobbiamo dire che fa cagare lo diciamo allora io so benissimo che lavoro fai tu e che lavoro faccio io il problema sono quelli che poi di solito ne parlano male perché non vedono il lavoro che viene fatto da noi su one piece che per carità ci sta non mi frega un cazzo però ogni tanto è anche giusto mettere i puntini però quello che io ho visto con questo capitolo 1129 è forse il tirare un sospiro di sollievo non so te ora io mea culpa in questi giorni sto un attimo un po' così quindi io sono anche uno di quelli che non ha visto il video tuo il video tuo analisi quindi sono curioso di sapere cosa ne pensi di questo video di questo di questo capitolo però forse ci siamo all'inizio vero di Elbath come saga breve piccola stringata che ci possa raccontare cose utili per la storia di one piece e andare dritti al punto io temevo che questa roba si sarebbe allungata all'infinito invece tre capitoli per allungare un attimo l'hype mi viene quasi da pensare in vista di Elbath Elbath è una delle isole più attese di tutto one piece io penso che sarebbe stato forse addirittura troppo veloce passare da quella doppia splash page con quella silhouette di merda dello stronzo che diceva venite a Elbath vi aspetto capitolo dopo su Elbath non sarebbe stato da Oda e avrebbe secondo me fatto scemare un attimo anche l'aspettativa che comunque c'è da anni nei confronti di Elbath invece questi tre capitoli che si sono introduttivi si Oda ha fatto i Lego ci ha pigliato un po' tutti per il culo sono stati inaspettati proprio perché c'è stata la presa per il culo secondo me e poi perché adesso tutti aspetti di vedere finalmente Elbath questo è il mio pensiero se tengo conto di questi tre capitoli poi magari rompono il muro dall'altra parte stanno sull'isola i pigmei io questo non lo posso sapere però mi sembra quasi di poter pensare visto questo capitolo e poi ti lascio la parola è che questo capitolo secondo me ci ha dato delle conferme di quello che dicevamo noi però questa era una saga dove non ci poteva essere un villain era una saga dove Oda quasi il villain se l'ha tolto dei coglioni adesso per fare lo scherzone e soprattutto il momento in cui Rod dice ma i pirati giganti d'ora e broghi erano andati a prenderli su Eged sono tutti quindi era consapevolissimo assolutamente lo sapevano tutti quindi il fatto che tutti aspettino il dio è ormai assodato e quindi questo mi ha fatto veramente dire andiamo avanti adesso però io l'ho vista così sono curioso di sapere allora io ti dico con il finale con Luffy che esce con questo sorriso ovviamente ti fa pensare sperare quasi immaginare che escano e si trovino nel villaggino dove sono tutti lì ad aspettarli ma no no in cuor mio penso che in realtà sia una grossa una grossa esca ok perché loro loro dicono espressamente cioè loro Rod dice espressamente che sono in una prigione per giganti no quando racconta questa è una prigione infatti abbiamo visto anche quando entrava la volta scorsa che c'erano le varie stanze lui entrava nell'ultima stanza entrava c'era dentro sta roba qua io ho come l'impressione che loro magari non siano nel Warland o magari non tanto nel Warland ma limitero ad elba fin quanto villaggio ma che possono trovarsi in una o in un'isoletta appena appena fuori o in una zona esterna perché comunque la salni deve essere parcheggiata da qualche parte non la possono sicuramente lasciare lì devono tornarci a bordo della salni secondo me e l'idea di 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 Rod per quello che è stato presentato infatti una cosa che dicevo nel video è perché Rod ha agito così cioè sicuramente non è che è un pazzo stramboide è un po' esagitato un po' otaku ma lui è consapevole che i pirati guerri giganti sono andati a prenderli cioè lui sa chi sono questi tant'è che Tsunami ci ha fatto sogni erotici quindi cioè non è uno uno stolto uno che è passato di lì per caso lì ci sono capitati lì visto che aveva un sassolino nella scarpa da togliersi ha approfittato la situazione perché aveva sta faccenda con Irodin che non gli era andata giù la roba di mettersi sotto cappello di paglia no? sì che anche lì molti dicono è razzista perché non vuol stare con gli umani io semplicemente non l'ho vista così io ho visto l'orgoglio di Elbaf punto cioè noi siamo gli orgogliosi guerrieri giganti di Elbaf noi non dobbiamo sottostare a nessuno manco meno che sia un umano un oni un demone o che cazzo è noi siamo gli orgogliosi guerrieri di Elbaf infatti mi ero immaginato che i nuovi pirati guerrieri giganti fossero questo piccolo gruppetto che non è accettato nemmeno di stare sotto al rosso a differenza degli altri giganti quindi loro si sono staccati sono fatti le loro avventure poi facevano i mercenari con baghi e nel momento in cui ero dintorno guarda che io mi sono messo sotto il capello di paglia e ciccio a me non sta bene sta cosa e il fatto di Rod che si è isolato in questo modo nel suo castellino lì in questa prigione gli fa proprio pensare che lui non sia lì fuori da pena dal villaggio ma che sia abbastanza distante dagli altri benché sappia del fatto che sono andati a prenderli perché è un'informazione che ha colto tranquillamente e quindi tornando al succo del tuo discorso io credo magari erroneamente che ci sarà ancora un po' da fare magari ora non rompono il muro ed escono ma rompono il muro e sono nella prigione ad esempio e trovano qualcosa qualcuno con cui poi fanno comunella io spero sempre che ci sia Orugia per carità di Dio però quello è un discorso a parte però qualcosa che porti avanti perché altrimenti è veramente un filler e sarebbe brutto se fosse un filler fatto soltanto per allungare cioè deve avere un senso questi tre capitoletti per quanto poi sciocchi e semplici siano e diciamo che a me la cosa che mi ha fatto abbastanza sorridere è quello che dicevamo scorsa settimana cioè ovvero questo poi ha rapito di fatto no Luffy Zoro Sanji Usop e Nami e pure Chopper con la consapevolezza di chi fossero ma tu veramente prendi mezza ciurma di uno dei pirati più potenti del mondo e hai la presunzione di pensare che questi rimangano lì nel terrario e a me questa roba qui mi ha fatto ridere ma che deve far ridere cioè poi lui si gasa nel momento in cui vede che questi fan casino lui va in estasi probabilmente l'ha anche annoiato da questi quattro gatti marci che non facevano ecco la cosa che io ho apprezzato molto di questo capitolo in particolare ecco gli altri secondo me il 1128 il 1127 il 1128 forse li ho trovati addirittura più comici più stupidi sì sono molti più pecorecci e invece questo mi ha interessato per dei motivi probabilmente quasi solo ed esclusivamente miei perché io mi sono immaginato questo che con i soldi della Buggy's Delivery si è creato fondamentalmente il suo il suo diorama con i Lego loro lo dicono ma quanto ci ha speso questo ma quanto tempo ci ha messo a fare questa roba qua Luffy arriva a dire mi raccomando non distruggiamo niente chissà insomma pare brutto che lo distruggiamo chissà quanti soldi ha impiegato questo road che si comporta come se fosse una sorta di master di Dungeon and Dragons il capitolo scorso si chiamava gioco di ruolo e poi quello che è proprio apprezzato è proprio il livello di escapismo di questo tizio che a un certo punto comincia a parlare di sviluppo dei personaggi comincia a parlare di un personaggio non si sviluppa se non passa attraverso i guai e i casini guarda che meraviglia sta sorgendo il male se sorge il male allora sorge pure il bene sorgono pure gli eroi cioè lui comincia a fare un piccolo naturalmente una piccola lezione di storytelling ma quasi a se stesso perché evidentemente si rompe il cazzo o si è rotto il cazzo perché non sa più che cosa fare no alla fine questi qui erano dentro lì e quindi poi li si erano adattati e sottostavano agli animaletti gli portavano il cibo gli facevano le coccoline e quindi appena arrivano questi che era un casino giustamente questo che bello ottimo il punto è che sono i peggiori da mettere in gabbio perché questi spaccano tutto chiaro è come mettere Tasmania in una gabbia c'è andava a mangiare la gabbia e quindi c'è il capitolo l'ho preso così per quello che è per quello che ti racconta e va bene detto questo io cerco poi di fare anche quella sorta di passo in più che in realtà gli altri non fanno mai o non fanno quasi mai e cioè mi metto poi sempre nei panni di quello che vuoi visto lo legge ormai perché si deve leggere e quindi no arrivato a capitolo 1129 maestro ma ci arriviamo a questo mazzato a questo finale e quindi Oda allunga allarga eccetera ho letto ne ho letti di tutti i colori Oda questa roba qui si era preparata vent'anni fa e Oda chissà quando se l'era scritta si vede che non è l'Oda di adesso lo so ho letto di tutto di più e io capisco può anche essere che avesse magari pensata ma chiaramente Oda è Oda oggi che lo disegna lo pensa lo fa quindi e la cosa che forse mi incuriosisce di più al netto di tutte le male parole che gli possono buttare tutte le critiche anche giustissime se ne si possono fare è il fatto che adesso questo questo road deve comunque entrare a far parte quantomeno della narrativa di Elbaf e di L'Isola dei Giganti magari insieme a Dachrudin se sta lì no indubbiamente l'idea tua del fatto che magari lui o gli altri non volessero stare sotto l'imperatore è interessante però poi comunque mi cioè come la giustifichi solo col fatto che erano dei mercenari al sodo di Baghi sembra un po' tirata questa vabbè alla fine sai o fai il pirata o in qualche modo devi fare fare soldi fare danè no cioè Aruidin perché era andato adressato al torneo perché voleva il frutto per essere più forte per poter poi fare più soldi il senso del suo gioco era quello perché alla fine dici ma perché andare a lavorare per Baghi quando sei comunque affiliato all'imperatore rosso perché arrabbiarti nel momento in cui Aruidin sceglie di sua sponte di mettersi diventare un sottoposto di cappello di paglia cioè è come se Roder si fosse sentito trattato come un sottoposto a cui non deve è morto il tuo libro si è suicidato sacrilegio adesso c'è che viene fuori Gesù dietro che ti guarda male stai attento queste sono queste sono le maledizioni di chi il libro non solo ancora non ha letto ma soprattutto chi non l'ha comprato chi non l'ha comprato sacrilegio sono gli alieni e gli alieni in casa adesso non dorme stanotte no stavo dicendo dai no così no poi dimmi dimmi no 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 vai vai no sennò poi hai paura non ti voglio fare far venire i brutti sogni e tanto già me l'altra sera quel video che ti ho mandato del tizio che spariva te lo che era divertente ah quella era divertente allora Gabriele l'altra sera l'altro ieri mi ha mandato un un articolo di questi scienziati scienziati che dicono di avere le prove di civiltà extraterrestri e che a breve uscirà un paper universitario ma che ci sono due team di scienziati che stanno cercando di farlo uscire prima degli altri accumulando le ultime prove e lui ma come se niente fosse tipo alle undici e mezza mezzanotte mi manda questa cosa io proprio così bello tranquillo vediamo io pensavo di aprire un altro dei reel con i Gesù Cristi e le Madonne leggo questa cosa e mi sono rimasto così comunque tornando a noi e a Rod e al fatto di sottostare i pirati a me ha fatto anche l'idea dei nuovi pirati guerrieri giganti sembra quasi fare il paio con i nuovi pirati uomini e pesce perché Odin aveva fatto la ciurma perché voleva emulare anzi perché si era tradito da Jimbe che si era poi unito ai corsari a Arlong che poi se n'era andato quindi loro volevano riportare in luce la vecchia scuola dei pirati dei uomini e pesce che erano di fatto per la supremazia razziale io non penso che i giganti siano suprematisti a questo punto di vista semplicemente ci è sempre detto che Elbaf sono molto orgogliosi l'orgoglio di Elbaf l'orgoglio di Elbaf l'orgoglio di Elbaf e magari il momento in cui i pirati guerrieri giganti sei anni fa quando poi Shanks è diventato imperatore hanno anche accettato di buon grado di sottostare un po' al rosso che non è un dominatore è semplicemente io vi proteggo per quanto poi ne abbiano bisogno quest'isola la faccio siete miei alleati insomma e a me l'idea è che questi gli dicessero non voglio stare sotto a un imperatore vogliamo essere noi gli imperatori quindi hanno preso il mare una banalità nel senso è un pensiero anche perché loro sono ragazzi sono giovani come pensati quindi anche un po' orgoglio giovanile di prendere il mare e dire no noi vogliamo riportare in auge i vecchi cuori Dori e Broghi siamo noi i nuovi Dori e Broghi eh chissà anche questa cosa che come hai sottolineato tu Rod a un certo punto non è risentito a noi ma questo Agiludin ma non ha un briciolo di orgoglio noi siamo nuovi pirati giganti chissà io sono curioso non so perché noi non sappiamo niente di Rod niente mai visto se l'hai visto oggi nella mia avventura nella mia avventura magari possiamo presumere che fosse anche lui insieme ad Agiludin e gli altri Sgerri a tirare su i libri non c'era si vedevano c'erano solo Gerd e Goldberg erano in tre a tirare su magari erano con la nave non lo so lui il navigatore è rimasto sulla nave potremmo presumere che magari ci fosse anche lui però noi di fatto non sappiamo niente no assolutamente questo personale non conosciamo la sua storia non conosciamo il suo background e quindi ecco un'altra cosa che a me piacerebbe sapere spero veramente che Oda ce la racconti questa storia giusto per far triggerare altre persone per dire che così perde tempo quali sono le motivazioni di questo tizio ecco che utilizza proprio l'escapismo duro e puro per fuggire dalla monotonia della vita moderna ma soprattutto mi piacerebbe capire se esistono delle correlazioni insomma dei rapporti con adesso che sono tornati Dori Broghi o Imocarsi cioè loro come si pongono nei confronti di quelli che sono i loro eroi e perché non si sono uniti ai loro eroi a questo punto dato che tutti sanno che sono andati su Eged a riprendersi la loro divinità io so benissimo e so cose a cui la gente gliene frega niente invece io nel leggere One Piece nel vedere soprattutto nei non detti quello che emerge io tutta questa roba qui vorrei sempre sapere perché è quello poi in realtà che arricchisce un personaggio arricchisce un mondo in questo caso e boh chi lo sa speriamo questa settimana sono curioso perché ripeto l'idea che possano già sbucare lì nel senso da una parte sarei contento perché vuol dire che si sta velocizzando quindi il nostro incubo non è reale però in realtà temo che invece non non sia così veloce se poi ti deve fare due settimane di pausa vuol dire che ci mette un cliffhanger che chiude particolare se non dico male se non sbaglio potrebbe potremmo 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 il penultimo o l'ultimo allora perché adesso noi non sappiamo ancora quanto dura il volume 110 ma se il 110 ha 12 capitoli questo ne ha 1 2 3 4 5 6 7 8 quindi ce ne sono ancora almeno due se invece il 110 ne ha 11 potrebbe essere l'ultimo il penultimo quindi siamo praticamente alla chiusura di volume di fatto ok e pertanto potrebbe o va fuori e quindi tu non li vedi che ti interrompe la scena magari va agli altri mungiwara che si avvicinano ma non so che avrebbe senso avrebbe senso per come lo chiude per come l'ha chiusa avrebbe senso andare sugli altri mungiwara che cercano di recuperarli perché è infame c'è un finale così infame non te lo apre esattamente da dove è finito e ti riprende facendoti vedere altro gli altri che arrivano si chiedono dove sono finiti poi magari te lo riprende a metà capitolo come seconda parte ad esempio se volesse però se te lo riprende a metà capitolo di sicuro non sono lì che poi ecco in questo capitolo ti risolve pure la faccenda loro sono passati per il mare del sonnifero però saranno passati pure gli altri dal mare sonnifero sai cosa diceva mi sembra il biocesso e il mala non mi ricordo che siccome magari la nebbia è a fil di mare quindi le navi piccole se la pigliano i giganti che stanno là sopra no e quindi non lo so quindi chi era sulla sanni se la son pigliata la nebbia ma poi ha portato corvaccio ha portato il corvaccio di odino si è divertente ma si è molto fine a se stesso ecco ti ripeto se non ha un senso tutto questo ed è veramente un filler è molto triste perché perché allungarmi il brodo soltanto per alzarmi l'attesa di Elba non farmi arrivare fammi vedere qualcos'altro inventati qualcos'altro io spero che abbia un senso tutto ciò la collaborazione con la Lego ovviamente la gente si è incazzata per questa cosa ma chi si è incazzata ho visto parecchie persone ho da venduto che schifo la collaborazione con la Lego fa questa cosa per avere la sponsorizzazione con la Lego ma bisogna essere veramente scemi adesso hanno fatto la cosa con la Lacoste da una cover richiesta che è stato al contrario non è che Oda ha fatto la collaborazione con la Costa è Lacoste che ha voluto fare la collaborazione esattamente è One Piece il brand da capire non Lego o Lacoste scusate io ho detto tante volte io a questo punto ci spero che facciano il set Lego One Piece ufficiale io compri subito ma stai scherzando viaggio l'anno prossimo via subito per forza per forza e poi in mezzo ci sono un sacco di cagatine sfiziose ecco noi tizi che vogliono scapparsene Usop che fa cose prontamente anche qui non blastato da Oda fa scoppiare la bomba Tobica non serve niente visto che già anche qualche settimana fa l'avevi prodigamente difeso sul fatto che lui secondo te la sua crescita è corretta a me è dispiaciuto non tanto l'imbruttita di Rufy la settimana scorsa del fatto del gatto e lui si giustifica in qualche modo vabbè stavo dormendo ok però anche il fatto che ecco le sue pop green sono le stesse dalle sabaudi sono sempre quelli quei 3-4 attacchi che ha i giavellotti di bambù c'ha il lupo c'ha il teschio esplosivo c'aveva i sargassi se ti ricordi certo non ricordo ma ci sono ancora qualcuno mi sembra non ricordo a differenza degli altri comunque che tutto sommato chi più chi meno qualche differenziazione qualche power up ha avuto ecco l'usop che a fine saga stava lì a potenziare i propri i propri i propri le proprie stelle poi lo chiama stelle ecco quello mi manca cioè ho visto proprio il personaggio di Sabaudi che lanciava le sue pop green con la piantina è ancora lì poteva funzionare contro gli uomini pesce dovevano un po' flexare la loro nuova abilità però adesso dopo sono passati quasi 600 capitoli da Fishman Island ecco lo trovo un po' troppo stantio usop senza trollare questa volta l'ultima volta che abbiamo fatto un discorso così e abbiamo fatto i finti troll io sono d'accordo in linea generale però cerco di fare anche un però dal momento in cui loro si sono incontrati alle Sabaudi che sono passati due mesi e mezzo quasi quattro mesi quasi quattro mesi quindi diciamo che in questi quattro mesi c'è chi che sono pochi tutto sommato c'è chi è riuscito a migliorare e chi no e quindi abbiamo visto che usop dal punto di vista combattivo ha sbloccato l'achi dell'osservazione quello proprio definitivo assoluto totale tombale ecco penso che ci rimarrei male se alla fine di Elbaf lui non sbloccasse qualcosa di nuovo perché questa non dico che deve essere la saga di Usop così come Guano non è stata la saga di Zoro no però c'è una differenza Usop ha sempre voluto andare qua a differenza esatto quindi questo deve essere il setup per Usop cioè questo deve essere il momento in cui Yoda prepara Usop se non per Iasop quantomeno per Vanagur o quantomeno per Iasop in previsione di Vanagur mettiamola così perché ad oggi se Usop si incontra con Vanagur per come stanno le piglia ma pure con suo padre le piglia le piglia sotto qualsiasi punto di vista e c'è per un grande però per quello che abbiamo visto nell'ultimo tempo di One Piece Yoda è riuscito a dare ecco dei power up un pochino a tutti persino Chopper fa il sugo a Odigashima tra l'altro Caesar gli ha fatto anche la medicina power potenziata esatto gli ultimi due che mancano se ci fate caso sono Franky che c'è la questione della nave e chissà dove vuole andare a parare cioè noi siamo stati su e get Franky come se non fosse esistito e va bene è proprio Usop allora se con Franky secondo me qualcosa di finale totale tombale ce lo possiamo aspettare con la faccenda del wanted con la nave l'unico che veramente manca dall'equazione è Usop a meno che Oda poi non se ne esca con quello che ha detto io devo fare da supporto devo aiutare i miei amici da lontano ci rimarrei un po' male personalmente parlando perché secondo me Elbaf deve essere il suo modello di riferimento futuro ora qua c'è secondo me anche per farla breve una sorta di misurder standing quando si parla di Usop ho sentito anche in questi giorni da altre persone ho sentito gente che si è lamentata del fatto che arrivate al capitolo 1129 Usop è sempre quello che ha paura che non ha sviluppo che può far ridere perché quella è l'unica cosa che deve mantenere perché altrimenti si snatura sì cioè i Mugiwara dal punto di vista caratteriale sono degli archetipi narrativi cioè te non puoi far diventare Usop coraggioso da un giorno all'altro perché non avrebbe senso è un po' come togliere l'avarizza a Zio Paperone Zio Paperone finché camperà da qua a 700 anni sarà sempre avaro Paperino da che camperà sarà sempre sfortunato Usop finché camperà sarà sempre pauroso il suo coraggio è andare contro la paura di quel momento quella è la cosa cioè l'Uzop che contro Chu si rialza e dice no io devo rompere il culo cioè quello lì è quello è il luogo normale che insomma riesce insomma a superare la sua paura a quel momento poi se si ritrova in un'altra situazione l'inverno c'è di poco paura e va bene così lo si accetta per quello che è però mi piacerebbe vedere che con l'aiuto dei giganti magari riuscisse un attimo a evolvere anche lo stile di combattimento inventarsene qualcuna di nuova ecco questo mi piacerebbe vederlo qualora non lo dovesse fare personalmente ci rimane un pochino male sicuramente sì sì ma anche perché poi i combattimenti strepitosi ne ha avuti assecchiate Usop cioè con Mr. con Mr. For contro appunto Chu ma c'è la strategia con Luffy per me è uno dei migliori combattimenti di tutto il manga sono d'accordo e io arrivo di una cosa l'ho detto quando ho fatto Lu dei migliori combattimenti di One Piece e io arrivo a pensare ma questo è un mio pensiero siete liberi di che non è così figuratevi e io arrivo a pensare che per quello che Usop ha mostrato alle volte durante i suoi combattimenti pensa contro Perona ma va bene ma pensa soprattutto contro Luffy se la turma dei pirati di Cappellio di Paglia utilizzasse Usop come stratega nel corso delle battaglie non ci sarebbe storia ah sì lui è uno stratega militare veramente non ci sarebbe storia perché te c'hai uno che nell'osservare gli altri capisce punti deboli fate questo fate questo fate quell'altro non ci sta più niente da fare assolutamente lui ha l'indole del generale volendo quindi da quel punto di vista secondo te è addirittura stato depotenziato Usop perché se Oda l'avesse dovuto giocare sempre così avrebbe dovuto poi strutturare dall'altra parte dei personaggi estremamente strategici cosa che in realtà ecco con Van Augur sembra aver fatto cioè te adesso c'è un personaggio che è estremamente strategico che può utilizzare il teletrasporto e quindi lì poi sarà divertente vedere Usop come potrà sfruttare se lo sfrutterà l'aghi dell'osservazione e magari eventuali nuovi poteri io questo non lo so me lo auguro ecco ce lo Van Auguri me lo Van Auguro me lo Van Auguro era servita non potevo farla cringiata hai fatto bene hai fatto bene e senti per chiudere un attimo e andare al allo sciacquone al brogezzolo hai visto i gli annunci visto ho visto ho visto tutto che ne pensi ma l'anime nel senso sti cazzi fino a un certo punto nel senso ho letto diverse opinioni sul perché ho letto ho sentito anche i loro perché dicendo che vogliono migliorare un po' quello un po' quell'altro onestamente per il prodotto che non c'era bisogno in virtù anche del remake e tutto il resto io mi sono dato altre giustificazioni nel senso magari vogliono introdurre episodi in più per tappare quel buco di battaglie che Oda non ha disegnato nella notte di Eged ad esempio e quindi vanno anche sceneggiate scritte e tutto il resto una ipotesi due non so se manga e anime hanno una distanza piuttosto vicina in questo momento o no eh sì cioè alla fine loro sono arrivati a a Garp sono a 177 siamo tre volumi e mezzo indietro eh quindi sono 30 35 capitoli se tieni conto che ormai ogni episodio dell'anime soprattutto dai Gedi in poi non ha avuto lungaggini non ha avuto roba filler ma di fatto adatta quasi un capitolo a questi praticamente in meno di un anno si metterebbero in pari con il manga si possono fare quello è il punto vero quello è il punto e quindi ho detto vabbè vogliono semplicemente lasciarlo andare un po' per poi avere di nuovo quello stacco che aveva un tempo perché una volta era molto più distante non ho ben capito il remake di Fishman Island onestamente perché cioè se volevi fare qualcosa cioè o questo remake ha un senso narrativo fai qualche retcon inserisci Nika con Fisher Tiger o Toime che balla la danza di Nika per dirti cioè qualche cazzatella di questo tipo che ti va a rimettere un po' in fila determinate situazioni altrimenti non vedo perché rifarla con questo stile nuovo molto più simile al manga più profondo sono le ombre e tutto il resto cioè io una mia idea me la sono ce l'ho ma mi skypea piuttosto non è uno starting point è quello il punto no certo quello assolutamente no cioè se ci pensi loro hanno detto vi facciamo rivedere tutto il post times tutto l'inizio del post times skip tutta l'isola degli uomini pesce sono 52 episodi ma noi le abbiamo rieditati in modo da farne 21 quindi hanno fatto un po' come fecero qualche anno fa con dragon ball fecero dragon ball kai eliminando tutte le parti allungate mi piace molto tutti i filler e se ci pensi non è una cosa stupida soprattutto se pensi che adesso domenica c'è lo speciale dei 25 anni che è la storia di questa bambina che sta aspettando i Mugiwara che ritornano dopo due anni vedremo dopodiché che cosa fai riparte One Piece e a me da sempre la sensazione ma questa è la mia impressione che oggi come oggi tanto Shuesha quanto Toy Animation vogliono veramente fare in modo di far cioè proprio One Piece lo dovete prendere ve lo dovete ingoiare giù per il gargarozzo soprattutto voi che One Piece non avete mai letto o mai guardato cioè è come se stessero cercando in tutti i modi di far salire a bordo tutti quelli che veramente in questi 25 27 anni vuoi perennità anagrafica vuoi perché One Piece è diventato un monolite non lo hanno mai visto non l'hanno mai letto tant'è vero che io sono rimasto proprio molto colpito da non dagli annunci in serie ma di tutta l'operazione di marketing che hanno fatto cioè se pensi il lancio dell'app questo One Piece base che adesso c'è solo in Giappone ma che da marzo-aprile arriverà anche in Europa che ti consente di fare che cosa di leggere tutto One Piece in digitale perché tutti leggono solo in digitale manga ormai in Giappone è solo così hanno implementato il manga con le scene non animate del cartone animato ma hanno animato le scene del manga e se avete sentito hanno fatto tutto questo servizio appunti per cui qualunque prodotto ufficiale di One Piece che tu vai a comprare sei inserito all'interno di quell'applicazione ti permette di fare roba social ti permette di sbloccare punti quindi se compri le carte che oggi vanno a ruba puoi utilizzare roba speciale dentro l'app se compri pupazzi puoi utilizzare altra roba se compri fumetti puoi utilizzare altra roba cioè è tutto ormai è tutto interconnesso assolutamente è tutto interconnesso pensa al vecchio cuore di Francesco Rossi vecchio corissimo lui diventa già tutto sbloccato un saluto mitico un saluto al nostro francesco Rossi e e quindi a me ha colpito molto ormai il livello di di media mix che One Piece ha raggiunto perché è un fenomeno da studiare il fatto che dentro un annuncio ufficiale del 25 annale dell'anime abbiano messo il live action di Netflix roba che ormai sapevano tutti ma loro ce l'hanno messo di nuovo fa ormai capire che One Piece è un idra è un idra tanto che continuerà ve lo dovete esorbire ma soprattutto per esempio con quell'app stanno anche preparando il dopo quindi tutti gli annunci tutte le cose che arriveranno dopo non si ritroveranno là dentro quindi è incredibile secondo me cioè proprio come come fenomeno di studio di marketing pazzesco no è praticamente in espansione come l'universo cioè continua a espandersi si espande si espande si espande poi chiaramente al centro invece di esserci il buco nero che è il nostro buco nero del centro della galassia c'è il manga c'è Oda che disegna nella sua stanzetta c'è il no aspetta qua allora io ti devo raccontare pure questa perché io venerdì mi sono lamentato perché noi riteniamo questo Ishiro Oda un recluso che sta 24 ore a disegnare con la palla al piede che non esce di casa che deve stare lì a fare il prigioniero poi ogni settimana io mi sto leggendo i suoi commenti fa qualcosa settimana scorsa è andato a mangiare con i suoi amici e ha fatto eravamo quattro amici al bar siamo andati a mangiare fuori ma i commenti che mette su manga plus i commenti che vanno su la settimana prima oh che bello siamo andati al concerto a sentire questo la settimana ancora prima una delle cose meravigliose lui che si lamentava perché il suo negozio preferito di tonkatsu aveva chiuso ma per fortuna aveva trovato il Deliveroo che gli portava un tonkatsu nuovo e quindi l'ha ordinato con l'app quindi immaginati questo e che arriva e gli dà la roba che arriva legge Oda e Ishiro ma non sarà lui e invece va a casa di Oda apro a vedere giraffe oppure la settimana ancora prima sono andato a fare una passeggiata oppure ancora prima sono andato a giocare a pallone e ancora prima con altri amici siamo andati fuori a mangiare un gelato Oda tu devi stare a casa a lavorare ma come cazzo ti permetti di avere una vita privata dove esci e poi fa 127 sbagliato sto bastardo ma quando lo vogliamo finire questo va in giro magni bevi dormi fai cose vita sociale oh oh abbiamo finito One Piece vergogna vergogna è come una storia che raccontava Saviano mi ha fatto ridere questa cosa qui una volta era in aeroporto e a un certo punto una signora lo incontra in aeroporto e dice Roberto ma tu qua stai e dice sì ma io che ti immagino sempre a casa recluso circondato da 40 carabinieri che non ti fanno uscire di casa ecco mi ha ricordato una cosa la povera vita del Saviano sì e per chiudere sedicesima mini avventura no vabbè ma di che cazzo stiamo parlando si è maniata tutto Shinobu si è maniata dai che poi mi hanno fatto notare che durante il messaggio di Vegapunk Shinobu era ancora magra adesso non lo è più e quindi dove si colloca è dopo il messaggio di Vegapunk o si è sbagliato senti qua due capitoli fa lui ha fatto error tre capitoli fa due capitoli fa l'ha fatto errori su errori su errori illusioni non erano apparentemente eh no eh no l'editor ma insomma è una figura mistica non esiste più è una figura cioè se pensi che il Iroyuki Takano Nagano il il capo redattore di Wigley Sharanjump ormai è piegato a sponsorizzare One Piece no questo dà proprio tutta la dimensione di quanto ormai One Piece dominino tutto che è terribile sì 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 era il tizio della diretta era no sì c'era Koike che è l'omone Toei Animation che si occupa di quello di destra o di sinistra aspetta quello di destra allora quello di destra è Koike che è il capo produttore dell'anime di One Piece non è l'ultimo arrivato è uno che per anni ha lavorato a Dragon Ball è quello che ha lavorato a The First Slam Dunk quindi tipo potente adesso è lui che ha in mano One Piece e quello a sinistra è il capo redattore di Weekly Shonen Jump cioè quindi immaginatevi cioè prima gli editor i redattori che erano quelli che supervisionavano tutto adesso sono loro che sponsorizzano One Piece e poi il tizio quello quello il Super che dice adesso continuiamo a dire ai 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 comunque cosa dice ai 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 fantastico no e guardate al netto del fatto lo so che poi me ne frega un cazzo perché giustamente è giusto che sia così cioè voi dovete leggere il manga ve lo godete se non vi piace vi fa cacare se vedete l'anime quando esce una volta ogni sei mesi ormai se guardate la puntata vi piace o meno però credetemi One Piece come fenomeno di studio è veramente incredibile perché poi ci sono tutte queste cose collaterali che sono veramente interessanti sono delle chicche assolutamente bene bene dai processiamo sì ne approfitto subito al volo grazie Drogmas Magnetizzato Vittalion01 Dottor Mike89 Jumax Grace Badens Sadie Gengar per gli abbonamenti perfetto e tiriamo lo sciacquone vai vai tira sciacqua ma quando esce la stagione 2 del live action 2025 penso prossima estate se non è più verso Natale dici Natale sai che l'anno scorso era uscita in estate quindi davo per assodato che mantenessero lo stesso periodo quindi era il forno oltre a luglio luglio era il compleanno agosto agosto la fine del 2025 anche perché mi pare che stavano facendo stagione 2 stagione 3 insieme ma non so se questa cosa fosse poi una fake news o no perché alcuni mi dicevano di sì alcuni mi hanno detto di no per me avrebbe senso onestamente fanno tutti insieme anche perché lì Crocodile i personaggi sono quelli è Cobra Nico Robin è Crocodile non è che poi devi fare chissà cosa devi trovare Mr. One e Miss Double Finger e poi capiamo vediamo Andrea chiede vi è piaciuto l'episodio di ieri a me ha fatto un po' cagare le luci e le aure spropositate a me è piaciuto e mi ha fatto anche molto ridere la caduta libera di Covi e Garp che rimane tipo sospeso nel vuoto così come se non ci fosse gravità ma lo dicevo anche oggi è un prodotto per bambini i bambini devono divertire stamattina alle 9 e mezza che guardano il cartone animato in televisione punto infatti adesso cambiano orario fanno diventare più adulti come cambiano orario? quando torna fra 6 mesi gli cambiano orario questo non lo sapevo gli cambiano orario e allora qui la faccenda cambia gli cambiano orario non si sa ancora che ora lo diranno durante il jump festa a dicembre attenzione però cambieranno orario secondo me anche per motivi di marketing cioè adesso One Piece questo è interessante è un plot twist che non mi aspettavo onestamente perché questo vuol dire che possono anche metterci un carico importante su su ciò che rappresentano sì io ieri ho visto sia la puntata che è uscita ieri ma ho recuperato anche la puntata precedente allora continuo a dire che secondo me la dimensione di questa prima parte di GED ha una quadra giusta sul ritmo delle puntate per cui arrivi alla fine della puntata hai avuto un racconto ti ha raccontato qualcosa quella puntata non si è dilungata non ha avuto tempi morti anche quando ecco la qualità dei disegni dell'animazione non è niente di che ci sono stati dei momenti tanto nella puntata precedente quanto nella puntata ieri è abbastanza imbarazzante lato disegni e lato animazioni dopodichè più nello specifico a me quando one piece diventa dragon ball non piace capisco perché lo facciano capisco che molte persone vogliano vedere quegli effetti vogliano vedere no garp che carica tre minuti il pugno vogliono vedere quelle super esplosioni vogliono sentire proprio gli effetti speciali di dragon però dio la mano che ci mette dieci anni per scendere quando in teoria è finita a me personalmente quando fanno dragon ball non piace e anche se comprendo il perché ovvero il fatto che servano un sacco di persone per massimizzare i tempi non piace quando dentro una puntata di one piece ci sono 40 stili di disegni e di animazioni differenti va bene la libertà artistica però secondo me avere anche un'unità grafica potrebbe giocare a one piece in questo caso però va bene detto questo ci sono stati dei momenti tanto nella puntata di ieri quanto in quella di settimana scorsa che di nuovo ho recuperato ieri che mi sono comunque molto piaciuti flashback di Aokiji con garpo veramente molto bello anche la maniera in cui tutto sommato hanno reso il passato di Kobe e quindi gli abbiano costruito addosso questo senso di colpa per cui cerchiamo di crescere come Marines ecco quello che diceva Gabriele poi è vero perché l'immagine di Garpo che viene massacrato da Aokiji forse secondo me è più impattante nel manga assolutamente è più cruda è più anche violenta ma anche perché è molto più veloce cioè le scene sono sequenziali e non ti lascia spazio il fatto che questo parte vola sta dieci anni in volo e poi cade e guarda a caso ricade su un pilone che Aokiji gli fa spuntare dalla panza cioè è rapidissimo Kobe vola pugno fine e se ne vanno però alla fine è divertente io non ho mai seguito One Piece settimanalmente mai l'anime di One Piece non ho mai seguito sempre guardato qualche puntata sporadica mi ha sempre annoiato queste GED la sto guardando perché è un buon ritmo poi rispetto a tutta il resto della produzione animata chiaramente non c'è storia perché essendolo diciamo sempre settimanale è anacronistico One Piece certo di stare allo stesso livello di non so qualunque altro prodotto annuale 12 episodi pensati fatti finiti e ritec grazie quindi fanno miracoli in realtà ormai quelli di Toy Animation e però tutto sommato è divertente quindi lo sto guardando e a posto così ci sta a posto ma Kobe che corre in area come sa il gap il gap è una delle cose prime cose che imparano quando diventi un marine cioè le Rokushiki devi impararle quasi non dico di base ma quasi altrimenti sei una mezza sega cioè vai non diventi nemmeno capitano contra ammiraglio vinci ammiraglio rimani mozzo pulire il cesso cioè se non hai le sue non sai le Rokushiki certo secondo voi non è possibile che per creare un po' di conflitto nella saga immagino dei giganti non ci siano giganti come Rood che non accettano Rufi come capo Nika darebbe anche senso narrativo a questo prologo cioè in che senso che ci siano che ci siano ma potrebbe anche avere il suo senso cioè lo dicevamo qualche settimana fa quando non sapevamo ancora che cosa fosse questa specie di parco giochi in miniatura cioè si ipotizzava l'idea che ci fosse questo dio sole che non accettasse o che si fosse preso l'identità di Nika proprio in virtù del fatto che Nika non tornava da 800 anni quindi non è non è detto che ci ne siano altri che magari in qualche modo non accettino non sappiano non vogliono però sembrerebbe il contrario per adesso cioè anzi Rood sembra più molto ignorante da questo punto di vista perché Luffy si trasforma in Gear 5 e non dice nulla ad esempio io continuo a pensare che secondo me non avrebbe proprio senso cioè ci può stare magari qualche gigante che a cui magari non gliene frega assolutamente niente tipo Rolf no gliene frega niente e va bene però ecco no Rode era proprio consapevole del fatto che erano andati a prenderli i suoi GED e quindi penso che veramente lo sappiano tutti che sta arrivando la ciurma dei Luffy cappello di paglia adesso c'è stato solo questo piccolo inconveniente già risolto già stato arrestato intanto già in galera infatti era in galera no ovviamente intanto caso Rode vero Maurizio Mosca col pendolino che gioca da dentro e quindi boh io ormai non mi credetemi è caduto persino l'ultimo tabù cioè io io ci credevo al fatto che intorno al capitolo 1200 1250 One Piece si potesse concludere non mi faccio neanche più questa domanda ormai finirà quando finisce qua stiamo e quindi forse ecco adesso adesso la domanda è questa ci saremo ci saremo capiamo e quindi faccio mie le parole di Lorenzo il Magnifico quanta è bella giovinezza che si fugge tuttavia chi vuole essere lieto sia del di ma non mercettezza quindi godiamoci grande godiamoci pure One Piece un saluto a Lorenzo il Magnifico un saluto a Lorenzo il Magnifico e chi vivrà letteralmente in questo caso Petra senti mi hanno raccontato questa cosa della cui io non ho capito molto dopo è un palese fallo c'era proprio un pisello che spuntava quindi è terribile quindi Oda ha omaggiato il maestro pesce che a Napoli ha fatto la scultura di Ulcinella intitolandola tu si una cosa grande esatto tu si una cosa glande capiamo o era un foreshadowing del matitone del nostro amico Urugge altrimenti era sicuramente il maestro pesce vabbè io mi immagino l'assistente di Oda che dice mi raccomando quando fai questa coda fallo bene fallo quest'appendita fallo bene in italiano proprio gliel'ha dovuto dire in italiano fallo bene chiaramente Oda nato a Napoli nel 1975 si chiama Ciro 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 Oda figlio d'arte no figlio d'arte di sei Ciro Oda sì ecco ormai andiamo avanti non ha senso avere nuovi nemici ormai Luffy è troppo forte i villain che restano sono gli altri imperatori del governo mondiale noi siamo d'accordo da questo punto di vista cioè adesso i nemici sono gli altri imperatori non ci sono altre storie cioè anzi gli altri uno Tic cioè che sarà quello che distrugge il governo mondiale ragazzi è già scritta questa storia vero distruttore di mondi ragazzi tutta la storia di Barba Nera serve per far diventare Barba Nera re del mondo distruggere cinque astri di demenza ammazzare i Musama che meraviglia io continuo a dire oscurità contro oscurità che meraviglia il buco nero che assorbe l'oscurità io mi gaso io mi gaso cioè immagini che io io mi immagino Barba Nera che nella sua consapevolezza eterna il suo incredibile studiare abbia capito in qualche modo che l'assuccia qualcuno no e quindi questo ho voluto espressamente sto cazzo di frutto dell'oscurità per andare a sopra a seccagnarlo io ci spero con tutto il cuore io ci spero con tutto il cuore e allora qua mettiamo da parte il fanboismo cioè per un attimo dai mettiamolo lasciamo perdere il fanboismo il fanboismo lasciamolo da parte allora mi metto l'afro c'era anche tu no io ho il cappello di baglia mettiti il cappello di paglia ecco allora afro rufi è tornato ecco qua allora lasciamo da perdere fa ridere però il fanboismo così poi sì sì è per quello quando noi che poi c'ho anche il cappello di paglia io c'ho due cappelli di paglia quella che era più figa vabbè quando noi andiamo a valutare tutta la storia di barba nera per quello che è noi vediamo un piano di un uomo che punta veramente al potere assoluto è iniziata finalmente la sua era e sappiamo finalmente che lui vuole il mondo esatto per volere il mondo oggi come oggi non solo quasi non ti basta il one piece che magari ti dà ti fa sbloccare le armi ancestrali vedremo ma per avere le mani sul mondo devi andare la sua marigio cioè il fatto che barba nera arrivi faccia la scalata e si sieda sulla sul trono vuoto è già scritta questa cosa non può andare così perché è quello ciò che dà la summa di quello che dicevano Van Augur e Katarina Devon a cosa puntate al mondo e il fatto che Oda recentemente non l'abbia fatto di a barba nera ma l'abbia fatto di a i suoi sodali dà proprio la dimensione di questo piano machiavellico perché se avesse detto barba nera sarebbe crollato tutto invece ho fatto i sogni di Luffy dicono Luffy diventerà re dei pirati cioè ti dà un altro spessore ti fa sentire la complicità ti fa sentire quanto loro siano ma anche se quando Luffy lo senti ogni saga no infatti quindi cioè per quanto mi riguarda io qua lo dico io mi sentirei anche un po' scammato assolutamente se dopo tutto quello che Oda ci ha fatto vedere non facesse diventare barba nera il villain finale in virtù del fatto di essere lui che deve abbattere il tabù del governo mondiale anzi sarebbe proprio bello lo scontro tra cattivi in questo caso ma proprio anche considerando il fatto che Xebek puntava proprio al titolo di re del mondo come ci diceva Sengoku quindi anche qua facendo un po' un paragone tra epoche tra ere Roger quello che conquista la Grand Line e diventa il re dei pirati dall'altra parte Xebek che ha fallito e Teach potrebbe effettivamente riuscire a veramente molto fico molto fico e poi se Teach fosse il discendente di Joy Boy proprio il cerchio che si chiude ai 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 vero Marshall cerchio che si lì sarebbe il cerchio che si chiude penso che quella sia la cosa più bella che è stata partorita durante un dip e Marshall di Teach Joy Boy Marshall penso che sia infernale noi abbiamo cucinato una cosa incredibile è stato veramente molto bello allora se se lascio da parte veramente la fantasia e provo a dargli un senso a questo piano macchiavellico di Barba Nera che adesso ha anche la possibilità di mettere le mani su due armi ancestrali ci guardi se quello quando quando cariboy dice ma lo sai che nelle segrete di wano kuni ci sta una corazzata che con un colpo distrugge un'isola wano tanti saluti esatto che poi è bello perché anche qua vedi poi si può come odda se è intelligente può sfruttare wano doveva essere aperta per affinché Joy Boy arrivasse e portasse fuori pluton se tic fosse davvero discendente di Joy Boy in linea di sangue manterrebbe questa situazione cioè lui arriva e porta fuori l'arma solo che lui è il Joy Boy sbagliato a me che fa impazzire questa cosa così come Poseidon doveva arrivare Joy Boy a portarla e condurla oppure dove dice di scafo saranno tutti contro tutti che andrebbe bene andrebbe bene fai God Valley 2.0 tanto God Valley è diventato quello un posto dove si è messa la pietra angolare dello status quo del mondo di One Piece degli ultimi 40 anni e quindi fa un tutti contro tutti però posso dirvi proprio in fede io mi sentirei anche qui un po' scammato proprio perché Oda Teach se lo sta portando dal volume 14 come il villain segreto nascosto che per me non è più nascosto quindi io mi sentirei un po' non dico defraudato però il fatto che i Musama è uscito perché ci deve essere una sorta di contraltare per gli 800 anni di vuoto per me sarebbe bello se il confronto ci fosse tra i Musama e Barba Nera perché alla fine per il One Piece per avere il mondo la consapevolezza di arrivare alla fine ce la devono avere tanto Luffy quanto Barba Nera certo io non lo so vediamo capiamo speriamo tanto alla fine poi vince Buggy quindi questo già lo sappiamo su questo non ci sono problemi anzi capiremo noi purché Rosso muoia a me va bene tutto ma non può morire Luffy deve andargli e dargli il cappello che poi non solo prende il cappello tanto muore anche Ruffy non ti preoccupare non prima di essere tornato dal passato bisogna vedere come riuscirà Oda a gestire una guerra finale con centinaia di personaggi già Marineford con molta meno gente ha avuto grossi problemi di bilanciamento qua si può solo speculare lui ha detto più volte che la guerra finale sarà la più grande guerra ma è vista non di One Piece ma di tutti i manga io mi sono immaginato veramente il Ragnarok fatto a fumetto ma proprio di quelli però il problema è che rischia di cadere nel putridissimo cosa fa? quanto dedica? già Marineford sembra lunga che poi sono due o tre volumi scarsi cosa fai? cinque volumi perché devi far vedere tutti contro tutti io poi però non sono molto d'accordo sul fatto che Oda a Marineford non se la sia scappottata bene anzi no 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 anzi io l'ho riletta tutta insieme e la trovo per quanto l'ho odiai letta capitoli anni fa l'ho trovata veramente molto molto gestita bene scorre via si beve è un piacere Marineford veramente è un piacere leggere tutto assieme quindi probabilmente sarà così anche nella guerra finale il punto è come gestisce perché la domanda di Rayleigh è lecita no sono tanti io però vado anche su quello che sul fatto che il nostro amico dice che è mal bilanciata io però metto sul piatto della bilancia perdonatemi un'altra cosa ovvero che Oda in realtà con Marineford è stato molto bravo perché non ti ha svelato niente no infatti cioè Marineford io ho sempre detto una cosa del genere Marineford è lo specchio deformante di chi non capisce i livelli di forza di One Piece perché dentro Marineford ad eccezione di Kaido e di Big Mom ci sono tutti i personaggi più potenti di One Piece tutti quindi nel momento in cui tu hai tutti i personaggi più potenti di One Piece non ti rendi conto dell'effettiva potenza dei personaggi lì presenti e questo senza neanche invischiarci nel fatto ma non si vedono le bordate di Haki non si vede l'Haki dell'osservazione lasciamolo da parte pensiamo al fatto che in quel momento ci sono cioè il 90% dei personaggi più potenti di tutto One Piece quindi i rapporti di forza lì non dico che sono sfasati ma tu da lettore non ti rendi conto di chi è più forte di cosa ma soprattutto tenendo conto del fatto che quella roba lì sta a metà One Piece Oda non te li poteva neanche far vedere come combattevano effettivamente infatti te non li vedi che combattono Aokiji fa l'Ice Age un paio di volte scompare Kizaru non pervenuto lui che fa il cane Akainu da un paio di botte a barba l'unico che combatte è barba bianca fateci caso e Luffy perché deve andare avanti ma tutti gli altri personaggi al netto di un paio di momenti di pura sboronaggine non potevano fare niente perché altrimenti Oda si sarebbe bruciato qualunque cosa dal punto di vista combattivo quindi secondo me lui Marineford si è gestita molto bene come saga posto che poi c'hanno ragione tutti quelli che non è Magliachi ma non c'era l'osservazione il durimento queste puttanate qua però se uno se lo rilegge oggi scorre che è una bellezza ed è molto divertente si si alla fine non fanno veramente c'è mi ottira una bordata contro Joe alla fine poi gioca un po' con Luffy un po' con Buggy un po' con Vista vede Shanks e se ne va non mi hanno pagato abbastanza grazie ecco fa il figuone Crocodile lui risalta un sacco che imbruttisce a destra e manca si 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 e tornando ecco scusate il pipone a quello che potrebbe essere il finale secondo me sarebbe anche forse non dico un po' bruttino però un po' scammone anche una riproposizione di una battaglia del genere no sarebbe triste a cosa di questo tipo cioè l'accetto su God Valley se ce la fa vedere perché sappiamo quali sono le parti in causa però sarebbe anche sbilanciato Marineford è una partita di Oli e Benji alla fine è trasposta in una guerra ma è uno contro uno cioè sono due squadre che si picchiano la guerra totale tombale contro il mondo salvo che sia Ticcia o sia Imu quello che vuoi comunque deve essere qualcosa che coinvolge interamente il globo cioè ci sono un tutti contro tutti una stampida all'ennesima potenza dove anche il più banale dei civili ha in mano una clava o un sassero lancia sì anche perché poi si diventa una guerra tra tutti gli imperatori ma è sbilanciatissimo ragazzi ma io non ce lo vedo Buggy che va contro Shanks non ce lo vedo Shanks che va contro Luffy cioè lui Shanks sta aspettando da vent'anni che quello diventasse Nika non ha senso ma non ha senso ma non ha senso nulla cosa fai Zoro e Miocche si picchiano durante una battaglia di quel tipo c'è Zoro che batte Miocche è triste in questo modo è triste sarebbe cioè io anzi se mai dovesse esserci un combattimento Zoro contro Miocche per il titolo sarebbe bello lo facessero di nuovo al Baratì per dirti no la richiudiamo dove è tutto iniziato però deve essere una cosa a parte non in una battaglia di questo tipo cioè devono stare dalla stessa parte in quel momento lì sono tutti contro il nemico vediamo dai il fatto che non riusciamo a capire come cazzo va a finire questa roba che è un plus chiaro cioè Oda è stato brava in 27 anni ci ha raccontato un cazzo assolutamente cioè vi rendete conto stiamo appresso a una roba da 27 tra poco a 28 anni un fumetto che va avanti da 1130 capitoli non sappiamo niente di niente e la fondamentale macro mitologia è praticamente inesistente la puoi comprimere in un volume e mezzo in quel volume e mezzo non c'è comunque scritto niente assolutamente e noi ne parliamo e stiamo ancora qua a parlarne quindi non so se siamo scemi noi o un genio Oda o il contrario un po' è un po' è un po' un po' un po' diamo a Cesare quel che è di Cesare insomma esatto e ti ricordiamo che ci sono ancora un bel po' di posti pochi posti liberi oggi oggi hanno prenotato una coppia che verrà ad aprile perfetto quindi stiamo stanno scendendo stanno scendendo perfetto quindi ci sono ancora un po' ma sono pochi posti liberi per il viaggio di aprile e di maggio quindi affrettatevi per il Giappone perché poi dico sempre poi ritornate ma non ce l'avevate detto che andavate di qua di lì di lì di là infatti io già so che rosicherete quando noi andremo al museo play e tra l'altro non so se hai visto le foto l'esposizione con il maggior numero di tavole di One Piece della storia sono tutte no allora c'è questa installazione a forma di spirale di giungito che contiene tutto il manga però quelle sono stampe quelle sono stampe quindi su questo muro di 140 metri a forma di spirale tu hai tutto One Piece tutto ma quelle sono stampe dopodiché in mezzo al museo quindi al di fuori di questa installazione a forma di spirale ci sono le teche con le illustrazioni di Oda quelle vecchie a colori e con le tavole originali di One Piece ed è però la mostra con il maggior numero di tavole originali di One Piece ok 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 bello così bello non vedo l'ora sinceramente non vedo l'ora sì non c'è già che tu vai adesso allora ci volevo andare per vedere però il problema è che bisogna ecco motivo per il quale poi a noi ce lo deve prenotare la nostra guida è tutto in giapponese lo puoi prenotare solo se sei giapponese proprio classico japan style pro turismo sì e quindi non sono riuscito a prenotare mi tirava al culo chiedere insomma la nostra guida se mi poteva anticipare queste altre cose e quindi no non ci vado settimana prossima dai almeno sei in blind con noi sì 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 è anche più divertente ci divertiamo bene popolo e questo era l'ultimo One Piece Deep per le prossime due settimane esatto One Piece Deep ritorna lunedì 4 ottobre lunedì 4 ottobre lunedì 4 novembre scusate 4 novembre 4 novembre però per quanto riguarda One Piece chiaramente noi ci ragioniamo in questa settimana ci sarà la blind non so se giovedì o venerdì da Gabriele sicuramente venerdì ma venerdì sera le 20 alle 21 festeggiamo tutti insieme c'è l'orgia party c'è l'orgia party avevo voglia di festeggiare i miei 40 anni anche se il mio compleanno il 23 però prima di partire volevo fare questa serata con Gabriele con Toschi con il Mala con Caverna di Ladrone con quegli stronzi di Arcanite con il Trono del Muore i Delli ma soprattutto con Alessandro De Concini e Giorgio Taverniti volevo farli conoscere cioè volevi volevi un attimino elevare la chiacchierata no il contrario volevo fare in modo che loro si imputridissero peggio di quanto si sono imputriditi con le Teoarie credo che con Ale ce la puoi fare io Giorgio lo vedo già sofferente è che non è ancora cominciata io vi ricordo il volto distrutto di Giorgio dopo le serate Teoarie no no secondo me oh capiamo vediamo 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 vedremo mettiamo insieme questo gruppo di Avengers e vediamo che cosa succede vediamo vediamo bene popolo buonanotte buone botte vado a giocare a Dragon Ball è arrivato quale quale qual è Sparking Zero e sempre sempre botte si picchiano malissimo è arrivato è arrivato stamattina l'ho provato alle 6 stasera un'ora per vedere se funzionava e adesso vado a picchiare classicone proprio vecchia maniera sì in un'oretta di mazzate ci stanno bene va bene alla prossima è partito un rutto volante perché ti sei caricato a pompetta esatto ciao no non lo posso fare live perché PlayStation 5 ce l'ho di là non se la metto di qua è un dramma oh ma aspetta posso fare un dissing ti dispiace ho distrutto tutto tutti ti dispiace allora ragazzi voi sapete quanto io ami il mondo dei fumetti sapete quanto io ami One Piece motivo per il quale mi piace parlare di fumetti mi piace parlare di One Piece eccetera questo non significa che non mi piaccia fare altre cose ma non è che il fatto che io abbia piacere a fare altre cose significhi che lo debba fare sempre online ah sicuro anzi anzi vi siete abituati male col fatto che ormai il mondo debba andare sempre nei confronti della tutologia e che uno debba condividere qualunque cosa sempre ma mi posso ritagliare un'oretta e mezza per i cazzi miei a giocare con Dragon Ball senza caccare cazzo a nessuno assolutamente cioè è importante ritagliarsi il proprio spazio ma poi lo so che è buoni grabbing ma non mi ti vedo si ma sti grandissimi cazzi è quello il punto sti grandissimi cazzi io sto di là bestemmia come se ti fai filmare mentre caghi cioè è il mio momento è il mio momento so che ci sente che pagherebbe per vederti fare la cacca ma è il mio momento allora 200 abbonamenti adesso in questi 30 secondi metto tutto ma anche no ma anche no un bar ecco Johnny pagherebbe per vederci cagare apriamo un OnlyFans no 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 apriamo un fondo per pagare lo psichiatra a Johnny bene buonanotte un bacio a mio fratello Giacomo vi voglio bene pace e bene grazie a tutti